Queste due di tutte che sono state già davanti, la prima di Saria, che Gesù fa proprio a queste parole e conosce la vocazione del Padre che aveva dato. Poi anche, questo è del buon pastore, come noi sappiamo si possono molto bene applicare nella vita di Santo Santo Padrello, come sappiamo anche molto bene l'itinerario spirituale della sua vita, quel loro sforzo che lui sempre ha fatto di essere liberi e liberi con Gesù, o anche la lingua spirituale che ha lo storico che lui ha trovato in Santo Santo. Infatti, per il suo essere di scelto revisionario, si è ispirato sempre da Santo Santo. Per una delle caratteristiche che a me dice molto nella vita di Santo Santo Padrello, una caratteristica di quando lui era piccola, grande, fino a quando morto, è quello, il senso, chiamiamolo così, rivoluzionario nella sua vita. Rivoluzionario nel senso non violento, ma di voler cambiare le cose, di voler milionare le cose, di andare contro corrente, di non accettare situazioni di ingiustizia che avvilisce la vita degli altri. Questo mi sembra una caratteristica forte di Santo Santo Padrello. Lo troviamo parecchio in un mese, quando era lì, lo sapete, quella del fatto, quando il terreno e i suoi compagni piccoli che stavano prendendo in giro quelli che chiedono, ecco, lui aveva capito che era una situazione di ingiustizia, e lui ci ha capito lì dal nostro fondatore. Non è convivente, così in passione di ingiustizia, perché ci ha capito lui ovviamente la presenza di Dio, e lui vedeva in quel vecchietto un'immagine di Dio, allora interviene, e va contro corrente in questo avvenimento. Per esempio, quando lui entra in seminario con i suoi colleghi, la natura umana porta un poco a essere buonissimi, a pensare a se stesso. Quando lei non va contro il corrente, per esempio quando chiede che una mente dica al papà i soldi per i suoi compagni, cioè un uomo sensibile, che non accetta le situazioni di povertà patriale e istituzionale, il fatto per sempre è che lui diventa un agregatore dei suoi compagni, quando, quando è la carta, scrive tutte quelle leggi, quando organizza degli incontri, o quando incita, spinge i suoi compagni a leggere dei libri, quindi ad approfondire la cultura. Ecco, sempre uno che ha lottato per la unione. In questo io vedo questo essere rivoluzionario, chiamiamolo così, del marello, invece di andare contro il corrente di rompere alcuni schemi che portano il bivinco all'egoismo o a pensare solo a se stessi.